ciao a tutti nesini siamo qui in un nuovo video apertura di uova di pasqua 2023 allora in questo video andremo ad aprire un uovo che non ho visto aperto da nessuno onestamente su internet poi non so magari mi sono persa qualcosa però non l'ho mai visto aperto sono andata a curiosare sul sito della valkor e ho trovato questo uovo carinissimo e appunto non sapevo della sua uscita non so se è esclusivo di quest'anno o meno però lo adoro allora e l'uovo in questione adesso ve lo faccio vedere è di kithering eccolo qua allora lo conoscerete tutti per questi suoi disegnini particolari di pop art e qua c'è la sua firma carino questa della pernigotti e non sapevo che la pernigotti fosse fatta dalla valkor adesso non lo so però stava sul sito valkor insomma e questo costa 9 euro e 90 mi sembra ed è da 240 grammi ma c'era anche quello da 24 euro che era molto più grande io però ho preso questo che mi sa che è rotto sentendo quanto vabbè l'ho ordinato su internet quindi ci sta che magari si è rotto quindi pazienza comunque molto carino e questo l'ho preso al latte ma c'era anche ovviamente al cioccolato fondente fatemi sapere se l'avete visto in giro io onestamente in giro non l'ho visto però ecco sul sito c'è quindi se vi interessa lo trovate la la spedizione costa un pochino tipo 9 euro e qualcosa però vabbè io ho preso tre uova sul sito quindi ci sta alla fine e tipo tre euro a uovo mi è venuta la spedizione in ogni caso restate utilizzati per altre video apertura uova perché ne ho presi un po quindi li vedrete questi giorni insomma sul canale ma adesso passiamo a questo che è molto molto carino e molto interessante con una sorpresa firmata a kitty ring poi non so se è quello più grande probabilmente avrà sorprese anche più carine però non volevo spenderci 24 euro per un uovo e quindi ho preso questo da 9,90 dicevo per nicotti cioccolato al latte e niente andiamo ad aprirlo è già rotto da quanto sento quindi lo apriamo insieme fatemi sapere che uova avete preso e quali altre volete vedere aperte sul canale ma mi raccomando che stai sintonizzati perché ce n'ho parecchie da aprire quindi quest'anno mi hanno stupito e sono contenta lo sapete io adoro le uova di pasqua quindi super super contenta lo vado a tagliare mi sa con le forbici la carta è super carina se potessi recuperarla in qualche modo sarebbe un sacco bello però non penso lo farò che non ho pazienza di farlo eccolo qua allora cerchiamo di non sbizzare subito la sorpresa eccolo qui allora è già rotto però io non voglio vedere la sorpresa quindi prima assaggio il cioccolato per nicotti che non ho mai assaggiato andiamo un po' buono dai non è male mi piace non è troppo dolce non mi dispiace devo dire sì non è male non avevo mai assaggiato un uovo per nicotti fatemi sapere nei commenti se l'avete già mangiato anche voi adesso andiamo a scoprire la sorpresa eccola qua ed è un porta chiavi ok ora lo andiamo a spacchettare insieme la codellina è di plastica e niente tolgo di mezzo l'uovo e vediamo cosa abbiamo trovato eccoci qua allora questo è il porta chiavi in questione vediamo un po' qua non c'è niente di particolare apriamolo qui abbiamo la firma di chitiring con il logo per nicotti questo è il classico porta chiavi e ha questi cuori onestamente a me non grida chitiring sono sincera ora magari mi sono persa qualcosa mi andrò a vedere altre sue opere però potevano fare la grafica classica con gli omini mi sarebbe piaciuta di più sinceramente però fatemi sapere nei commenti che ne pensate adesso ci vado ci vado a guardare insomma se qualche opera aveva questi cuori perché io onestamente non me la ricordo però fatemelo sapere nei commenti e niente carino dai come sorpresa è carina se fosse stata con gli omini classici stilizzati mi sarebbe piaciuta un sacco di più perché appunto questo non grida proprio chitiring appena lo vedi però è carino dai comunque e niente questo è quanto per il video fatemi sapere nei commenti se questo uovo vi è piaciuto se lo acquisterete e se avete preso quello da 24 fatemi sapere nei commenti che cosa avete trovato magari ci sono sorprese più belle in quelle non lo so fatemi sapere nei commenti restate utilizzati per altre aperture di uova di pasqua perché ne ho un bel po' da aprire con voi e quindi vi divertirete sicuramente e non perdetevi quelle che ho aperto sul canale perché ne ho aperte già abbastanza noi ci vediamo in un prossimo video se vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su iscrivetevi al canale mi raccomando commentate perché aiuta un sacco il canale e guardatevi anche gli shorts perché youtube non sempre li mostra insomma però ho aperto anche cose carine negli shorts ci vediamo al prossimo video ciao ciao